Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in via dell'Arboreto Agenzia Unipolsai a Gubbio in via Pierluigi da Palestrina 2224, agente Cecchetti Mirella Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento metodo di TRG, andiamo ad analizzare la situazione sull'Italia e sul bacino del Mediterraneo per il fine settimana Vediamo che arriverà una bassa pressione da nord-est che lambirà solamente la nostra penisola Però coinvolgerà soprattutto il lato adriatico e sarà responsabile di un peggioramento nella giornata di venerdì E di un abbassamento delle temperature per tutto il fine settimana Andiamo ora ad analizzare più specificatamente la giornata di venerdì 22 giugno Giornata che sarà la peggiore del weekend con frequenti piogge su tutto il territorio regionale Avremo anche possibili temporali lungo la zona appenninica e tutto questo durerà per tutto l'arco della giornata Solamente in serata avremo un primo miglioramento con la cessazione dei fenomeni Avremo come detto responsabile della perturbazione le temperature in calo Soprattutto nei valori massimi che si attesteranno intorno a 21-23 gradi per la giornata di venerdì Mentre le temperature minime si attesteranno intorno ai 8-10 gradi Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento